Pensi siano poi i punti costruiti che brucerai Nella fine poi convincerti che ascolti noi che tu puoi Matte, scusa un attimo, non per qualcosa, ma mi spieghi il senso di quella frase che hai appena cantato? Ma che canto hai detto? Gilda, ce li siamo? Ma come che canto ho detto? Allora, c'è sempre una spiegazione psicofisica, fisiologica, semplice, filosofica Che tutti quanti riescono a comprendere all'interno di una frase di una canzone Semplice, semplice Pensi siano tuoi i punti perché sono legami con le persone Il ponte è il connubio che lega l'entità della fantastica brigata numero 8 al protagonista Sono come una famiglia, una famiglia che lui non ha mai avuto perché gli è stata portata via dalle fiamme Quindi è titubante all'interno del mondo, è visto come un mostro, ha perso tutti i legami Li ha distrutti, li ha incendiati perché è un maledetto uomo Che ovviamente le fiamme le controlla attraverso le gambe Ma sono visivamente esposizioni sensoriali del dolore che può provare una persona nella propria vita Hai capito? No Oh ma che palle, perché non capite mai il cazzo? Ma che vuol dire? I punti sono le persone, gli amici, capito? Quelli che gli vogliono bene, che so poco coglioni perché tutti quanti dicono che ride sempre Ma che cazzo ride poi? Siccome che lui dà fuoco coi piedi e tutto quello che incontra dà fuoco ha perso tutto Legami, famiglia e mo si attacca al cazzo Ciao E ci voleva canto Ciao 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 Ciao